Ciao ragazzi, oggi vi parlo del volante VNM Gran Turismo, una vera bomba per tutti gli appassionati di sim racing. Immaginate un volante da 300 mm in alluminio CNC con un'impugnatura ergonomica in silicone che sembra fatta apposta per le vostre mani. E' equipaggiato con tutti i controlli che potreste desiderare, 8 pulsanti LED, encoder rotativi, paddle di cambio regolabili e persino paddle analogici per quella sensazione ultra realistica di doppia frizione. Connesso al PC via un cavo a spirale USB, questo volante promette di portare la vostra esperienza di guida a un livello completamente nuovo. Bene, questo ovviamente sarebbe la descrizione che si potrebbe sentire in una pubblicità nella televisione, che in realtà non è che discosta tanto da quello che effettivamente offre questa corona. Ringrazio i ragazzi di TZ SimProject, ovviamente per avermi dato la possibilità di poter testare a fondo questo prodotto della VNM che si presenta veramente con una linea veramente figa ragazzi, molto semplice, con un materiale di altissimo livello e soprattutto quello che mi piace tanto è il fatto che si possa personalizzare con il mitico Simab. Ragazzi, la prova pratica non è che è tanto discostante da quello che sono state le mie prime impressioni nel video precedente, è molto figo, si presta molto bene a quello che è il suo mestiere, quello di farvi girare le mani per dare direzione alle vostre auto. Devo dire che quello che mi ha impressionato di più è la sua leggerezza e nello stesso tempo questa sicurezza a livello di materiale e robustezza che conferisce questo volante qui. Un'altra cosa che è molto interessante è che a livello di decibel è quello che ne emette di meno quando si fanno le cambiate. Questo è dato anche dalla possibilità di poter, grazie alle asole, regolare la corsa dei paddle e delle marce che non è una cazzata, ragazzi, perché effettivamente più chiudete all'interno e meno corsaccia e quindi fa meno rumore. Ovviamente avrete meno corse e quindi forse meno sensibilità, però fa parte del lotto, delle regolazioni che offre questa corona. Niente ragazzi, io non è che ho tantissimo altro da aggiungere in merito a questo prodotto se non dire che se la linea vi piace, che se vi siete innamorati della linea, ovviamente questa è una corona che merita di essere tenuta in considerazione. A tal proposito, volevo segnalarvi che i ragazzi di TZ Simproject hanno deciso di convalidare sempre il codice che trovate qui sotto per le spese di ispezione gratuite per chi fosse interessato appunto all'acquisto di questo volante. Ragazzi, cosa aggiungere? È un'altra corona spettacolare, rimanete sintonizzati perché ci sono delle novità che arriveranno qui sul canale di SimDrivers.eu. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate a livello visivo di questa corona, lasciate un pollice in su se questo video vi è piaciuto, un commento che è sempre gradito, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao! Grazie a tutti!